io direi che possiamo cominciare anche se siamo metà di quelli che dovremmo essere però sono già le 9.05 secondo me chi si voleva connettere lo ha fatto mi presento per chi non mi conosce buongiorno Simona direi che sei l'unica persona con cui non ho ancora avuto a che fare nella mia carriera io mi chiamo Simone Parmigiani sono un analista GIS da 9 anni dal 2014 sono di formazione sociologo e poi ho fatto un master in sistemi informativi territoriali e basta da lì è iniziata la mia carriera dopo 4 anni di analista puro e semplice ho lavorato prima nel campo della produzione di mappe per navigatori satellitari poi nella progettazione di rete in fibra ottica e poi ho deciso di intraprendere un percorso più orientato allo sviluppo software quindi ho iniziato a studiare Python ho iniziato a studiare altri linguaggi di programmazione pian pianino un po' da autodidatta un po' seguendo dei corsi e poi gli ultimi 4-5 anni di carriera mi sono lanciato proprio in progetti di sviluppo codice vero e proprio ho fatto un corso in computer science all'università di Harvard e poi sono approdato a Giter ho lavorato per diverse organizzazioni internazionali Nazioni Unite, Unione Europea ho lavorato per una multinazionale olandese e negli ultimi anni prevalentemente mi occupo di analisi di dati Raster Copernicus e poi io svolgo altre attività parallelamente anche insieme a Giter come freelance il corso di oggi in realtà era mio interesse io ho preparato qualcosa ma era mio interesse capire un po' il livello di approfondimento soprattutto in Python della classe chiamiamola così delle persone presenti e in modo da calibrarlo il meglio possibile andremo a creare una web map utilizzando un paio di librerie di Python già precostruite partendo da un file CSV di vulcani giapponesi che ho trovato in rete è un'esercitazione una delle prime esercitazioni che ho fatto quando ho iniziato a studiare Python soprattutto Python correlato al geospaziale e mi è tornata in mente perché è lo stesso esercizio che proposi a una classe di studenti delle scuole superiori delle scuole superiori nel 2019 per spiegargli un pochino che cos'era Python e così e mi è sembrato un esercizio molto interessante da proporre a chi si voleva approcciare a questo mondo e soprattutto da chi magari conosceva Python conosce un pochino le basi del linguaggio che poi vi posso anche spiegare e però non sa che cosa farci in concreto a livello geospaziale soprattutto in ambito di visualizzazione dati che è un po' l'ambito che va per la maggiore quindi vi condivido lo schermo non mi sono preparato slide e niente andrò un pochino a ruota libera e vi condivido tutto il mio schermo perché come potete vedere qui andremo a creare questa mappa ok? poi vi farò vedere come e già aperte ho le due documentazioni che ci servono per arrivare al prodotto desiderato qui ho un'istanza di VS Code con il codice già fatto ma lo andremo a ricreare da zero come vedete non è granché sono una trentina di righe di codice e in questo progettino di VS Code mi sono andato ad importare questo CSV che ho scaricato il link l'ho perso ormai perché sono passati un po' di anni però volendo ve lo posso condividere in qualche modo alla fine del Geo Break magari mi consulto con gioia e vediamo come fare se la cosa interessa e vulcanigiapponesi.html sarà il nostro output non ci interessa vederlo in questa istanza ci interessa vedere la visualizzazione e basta però questo è quello che andiamo a fare per lo scopo di questo progetto ci serviranno due librerie la prima si chiama Folium Folium è una libreria Python che sfrutta una libreria JavaScript molto bella che si chiama Leaflet fra l'altro sviluppata da un ucraino e adesso ci stanno facendo un servizio molto interessante che fornisce informazioni in real time sullo stato dell'andamento della guerra in Ucraina ho perso il link ma era molto bello e niente è una libreria open source appunto sviluppata da questo ragazzo ucraino se andate sulla pagina di Leaflet c'è la possibilità anche di fare una donazione che secondo me in questo momento non è affatto male per il ragazzo che insomma ci ha speso così tanto tempo c'è un tutorial di introduzione alla libreria Leaflet fatto molto bene però è una libreria di JavaScript cioè è un framework di JavaScript quindi per iniziare ad utilizzarlo servirebbero delle conoscenze progresse di JavaScript qui lo scopo invece è di approfondire di più il linguaggio Python e quindi utilizzeremo questa libreria Folium che praticamente è un connettore a quest'altro framework di JavaScript e questa è già un po' la prima secondo me cosa da cercare di capire di Python perché Python è un linguaggio di alto livello molto semplice da utilizzare cioè molto simile al linguaggio dell'uomo molto simile all'inglese e che però comporta l'utilizzo spesso di queste librerie esterne a volte molto pesanti in termini di prestazioni che però sono delle specie di black box se tu scrivi un comandino molto semplice crei un oggetto molto semplice ma sotto ci sono righe e righe di codice che noi non vediamo per chi non lo sapesse Python è un linguaggio di programmazione scritto in C e C++ e quindi gestisce tutte le informazioni di basso livello relative alla gestione della memoria alla liberazione della memoria alla creazione di liste insomma all'ottimizzazione dell'ottimizzo della RAM viene tutto gestito in un modo che noi non vediamo tramite il famoso interprete di Python che si può scaricare io per questo progetto qui ho deciso di utilizzare la cosa secondo me più comoda in generale ho deciso di utilizzare Miniconda Miniconda è un pacchetto diciamo minimo minimale di una distribuzione molto famosa di Python che si chiama Anaconda che è il prodotto più in uso per i data scientist in cui metterei anche noi GIS analyst è un pacchetto che viene giù con un sacco di roba con un sacco di strumenti ci sono dentro tool per programmare ci sono dentro degli IDE come Spider se vi va di utilizzarlo al posto di io sto usando VS Code ma sono tutti più o meno più o meno uguali Spider è molto comodo per chi fa data science c'è già Jupyter Notebook che è un altro tool molto comodo insomma è un pacchetto bello corposo con già dentro un sacco di roba che magari alcune persone non vogliono installare completamente sulla propria macchina e quindi hanno fornito anche questo pacchetto che si chiama Miniconda che viene giù con solo le cose essenziali Miniconda è lo strumento base per costruirsi un ambiente di sviluppo in Python generalmente si lavora su tanti progetti ogni progetto potrebbe avere anche delle versioni di Python diverse e quindi la best practice è quella di andarsi a creare un ambiente distinto per ogni progetto che si decide di sviluppare quindi magari avremo un ambiente con Python 3.10 perché è il più recente avremo un ambiente con Python 3.6 perché stiamo lavorando su un servizio che è stato sviluppato in quel modo e per ora non si è ancora deciso di aggiornarlo eccetera eccetera all'interno di questi ambienti virtuali poi è possibile andare a installare le librerie di cui vi parlavo prima e la best practice è quella di installare il numero minimo di librerie che si vuole utilizzare perché più aumentiamo la complessità del progetto e più è facile che le librerie utilizzino pacchetti magari non aggiornati che possono anche andare in conflitto fra loro e cose di questo tipo a me finora fortunatamente in carriera non è mai capitato però mi hanno detto che capita e quindi ci credo e prima di evitare di incappare in queste trapole mi premonisco con le best practice ora io sfortunatamente oggi mi trovo in un ambiente Windows normalmente lavoro su Linux ma il mio computer è in assistenza ho provato a replicare questo esercizio in ambiente Windows che è un pochino complicato bisogna usare questo Anaconda PowerShell Prompt che è una riga di comando che permette di gestire i pacchetti di conda come potete vedere qui mi sono già creato il mio ambiente virtuale che si chiama Vulcani lo vedete qui fra parentesi però in realtà quando voi vi attivate questa PowerShell Prompt da Windows vi trovate con questo setup cioè avete la libreria base che contiene tutte le librerie più comuni che fanno parte del pacchetto base che anche se installate l'interprete di Python quello preso da python.com trovate e la cosa bella appunto è che con da create meno n che sta per il nome chiamiamolo Vulcani 2 e poi gli possiamo dire quale versione di Python vogliamo installata la versione di default è la più recente e mi vedete è tutto a posto perché non vedo più il mio schermo infatti mi è sparito lo schermo ora ora si vede ok scusate devo avere premuto qualcosa di sbagliato stavo dicendo dopo aver inserito il vulcano il nome del nostro ambiente che io ho chiamato Vulcani 2 perché Vulcani l'ho già creato ieri sera potete scegliere quale istanza di Python installare quella di default è la 3.10 la più recente io sono andato con la 3.8 per sicurezza perché all'epoca questo esercizio lo feci con Python 3.8 quindi per essere sicuri di di non incappare in errori che poi magari poteva essere difficile da risolvere così al volo andrei con questa versione qui lui automaticamente individua tutte le le risorse che gli servono per creare questo ambiente voi date il sì e lui installa i suoi pacchetti ci mette relativamente poco ecco ha già fatto a questo punto abbiamo creato tutti gli ambienti di 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 anaconda che ci servono lì possiamo vedere gli ambienti creati tramite questo comando conda env list e vedete ci restituisce tutti gli ambienti virtuali che finora ho creato l'asterisco è su quello attivo che potete vedere anche anche in questo modo qui e con il comando conda activate poi in realtà quando crei un ambiente virtuale spiega tutto è molto straightforward noi facciamo con da activate vulcani 2 ed ecco che abbiamo attivato il nostro vulcani 2 come dicevo per questo progetto andremo ad utilizzare la libreria folium e la libreria pandas lo vedete qui scusate io ogni tanto controllo se sto condividendo lo schermo perché non mi da code aperto non vedo niente quindi andiamo ad installare nel nostro ambiente virtuale le librerie che ci servono si fa con install meno c da forge meno c gli fa scegliere quale canale utilizzare se non specifichiamo niente lui va col canale normale io sono abituato ad usare questo canale che si chiama conda forge che è un canale specifico di conda perché per esperienza soprattutto in campo GIS ho trovato tutto quello che mi serviva che certe volte sul canale di anaconda invece non si trova per esempio se non mi ricordo male la libreria Gidal sul canale di anaconda non si trova oppure si trova una libreria che dà dei problemi quindi la più bella è conda forge e vedo anche in giro per la rete che è la più utilizzata gli ho passato come parametro le due librerie che mi servono che non fanno parte del pacchetto base perché questa cosa la so si può anche installare una alla volta e come vedete lui automaticamente va a generarsi questa a raccogliere tutti i pacchetti che gli servono per mettere assieme questa situazione ci mette un attimino perché purtroppo uno degli aspetti negativi di Pandas è che dal punto di vista prestazionale è un matone ha un sacco di funzionalità belle e anche semplici da utilizzare però purtroppo è molto molto pesante nel frattempo che lui installa adesso andiamo a creare il nostro progetto tengo vulcani come traccia e mi vado a creare un nuovo progetto di python che si chiama vulcani2 come vi dicevo ho già installato ho già scaricato questo csv e questo csv come potete vedere contiene la lista di tutti i vulcani del Giappone con il nome l'altitudine questo 70c 725 le coordinate l'altitudine e longitudine e lo stato cioè se sono vulcani attivi o vulcani inattivi questo questo attributo ci servirà per fare una distinzione per andare a creare due diverse visualizzazioni a seconda che che il vulcano sia attivo oppure no nel frattempo miniconda ha finito il suo lavoro quindi abbiamo l'ambiente è predisposto un nuovo progetto uscode ci chiede quale interprete utilizzare io adesso andrò con l'interprete il primo interprete vulcani che è praticamente lo stesso interprete vedete qua cliccando qua in bassa destra possiamo scegliere quale interprete utilizzare di python possiamo utilizzare anche vulcani2 va bene e soltanto sono uguali e mi vado ad importare le mie librerie import volume e import pandas quando importiamo le librerie con il comando as gli possiamo dare anche un alias questo perché perché per richiamare la libreria in futuro fa comodo avere una shortcut per pandas è è abbastanza è abbastanza comune usare l'abbreviazione pd poi andiamo a leggere la nostra data frame assieme a pandas la salviamo in una variabile il comando è pd read csv per chi ha già a che fare con python da un po' di tempo queste sono cose abbastanza comuni mi vado a prendere il percorso del mio file in realtà mi interessa solamente questo vulcani giapponesi punto txt e facciamo un primo una prima visualizzazione di che cosa abbiamo eseguo il mio codice ecco vedete che mi ha stampato a terminale quello che mi aspettavo cioè una visualizzazione grafica del dei nostri dati ora mi vado a prendere tutte le variabili come faccio utilizzo un comando di pandas che si chiama iloc che mi permette di andare a prendere riga per riga l'indicizzazione di un attributo che mi serve quindi mi vado a salvare tutti i nomi faccio pd punto iloc due punti due punti significa prendi tutto quello che c'è in quella riga iloc itera riga per riga faccio pd punto iloc è questo e vado a stampare names in realtà non sto stampando i names sto stampando una riga sto stampando una ro scusate è la data frame che ha questo attributo iloc ecco vedete che mi ha stampato di nuovo tutta la tabella perché ha preso tutte le righe qua ho sbagliato io gli ho detto di prendere solo la prima riga gli dico ecco vedete che mi stampa tutti gli attributi della prima riga ai cagavo a caldera elevation latitude longitud ok mi interessano solo i nomi quindi gli dico in questa lista qui alla riga 0 prendimi l'elemento 0 le liste in python sono indicizzate a 0 quindi il primo elemento in realtà è l'elemento 0 e in questo caso qui mi aspetto solo il nome ok se faccio questa cosa qui per tutti gli elementi quindi come ho fatto prima la lista questa qui è un comando per fare slicing della lista gli indico il primo elemento gli indico separati dai due punti gli indico l'ultimo elemento e mi prende tutto quello che c'è in mezzo se faccio così significa automaticamente prendi tutto quello che c'è quindi lui itera per tutte le righe della data frame e prende solo il primo campo che sono i nei che ci interessano facendo così mi aspira i vulcani e infatti è così mi ha stampato tutti i nomi ok faccio la stessa cosa per tutti i campi del csv quindi ora farò un po' di copia e incolla bruttissima pratica da fare però per motivi di tempo è più comodo così quindi faccio elevation uguale mi copio questo codice quindi qua prenderò la prima colonna latitude la seconda colonna la terza colonna longitude qua la terza colonna e la quinta colonna ora ho tutti i dati che voglio voglio andare a definire salvati in una singola variabile a questo punto inizio ad utilizzare folium quindi creo una mappa la chiamiamo map questo è spiegato molto molto semplicemente in questo in questa documentazione qui vedete per creare una base map gli passiamo le mie coordinate su folium quindi posso anche tranquillamente copiare questa riga qui io l'ho chiamata mapa va bene folium.map location uguale a questa qui poi ero andato a individuare avevo trovato le coordinate del centroide di Tokyo così la mappa ci compare centrale su Tokyo che è quello che vogliamo vedere visto che andiamo a visualizzare i dati del Giappone qua vi passo i parametri delle coordinate dove voglio che sia centrata la nostra mappa gli posso dare altri parametri questo è lo zoom di partenza ho fatto un po' di prove ho trovato che il migliore è 6 e gli posso dire che sfondo utilizzare a me piaceva questo sfondo qui leggete in documentazione ce ne sono un sacco e vi lascio divertire poi dopo creiamo un feature group un feature group è un insieme di caratteristiche che vogliamo inserire all'interno del nostro è praticamente un layer quello che sarebbe un layer in QGIS io l'avevo chiamato feature group vulcani uguale fum punto feature group eccolo qua all'interno di un nome l'avevo chiamato vulcani sembra sì esatto e poi andiamo a creare una lista di tutti questi dati qui riga per riga come facciamo la funzione di python molto figa che si chiama zip che praticamente fa esattamente come la zip di un maglio di una felpa o di un capotto cioè prende un elemento per ogni per ognuna di queste liste che gli passiamo queste sono liste non ve le ho non ve le ho fatte vedere però sono liste di valori prende un elemento per ogni lista e li riproduce in un oggetto iterabile che è una lista però è un oggetto zip e quindi avremo il primo nome il primo valore di elevation il primo valore di latitude di longitude di stato tutto in un'unica riga e su questo cioè se faccio lo chiamiamo con una variabile se faccio for i in zip list print i cioè se itero per ogni elemento di questo zip list e lo stampo vedrò ogni riga stampata diversa vedete me la stampa sotto dove non hai dati non ci mette niente però questo è il sono gli attributi di ogni di ogni punto che vogliamo stampare sulla nostra mappa e quindi andiamo ad iterare per questi per questi valori qui però iteriamo per ognuno dei suoi valori quindi non facciamo come ho appena fatto sotto ma facciamo for mettiamo prima le latitudini le longitudini perché così ce le ho a portata di mano ln ln e poi mettiamo l'elevazione e lo status in ordiniamo naturalmente queste latitudini longitudini elevation e names non ci serve bene a questo punto facciamo add child che è un attributo qua esatto in add child si può anche andare a leggere in documentazione ma faccio prima andare qua utilizziamo questa funzione che si chiama circle maker che è questa eccola qua in cui dobbiamo indicare vedete la nostra location il raggio con cui andiamo a aggiungere a questo layer ogni punto sulla base degli attributi che abbiamo appena raccolto tramite pandas e gli attributi che gli dobbiamo passare sono questi qui location quindi le nostre latitudini e le longitudini il raggio se vogliamo fare dei punti più o meno grandi dipende dalla scala di rappresentazione del nostro progetto questa è una cosa che vi spiego dopo pop up e tooltip è una cosa che vi spiego questa cosa qui ce la dimentichiamo un attimo perché è una cosa un po' complicata su fill color io mi ero creato una funzione quindi fondamentalmente come si fa tutto questo si mette dentro a un if name uguale uguale main e questo è il comando main del nostro del nostro progetto prima andiamo a definire tutte le funzioni che intendiamo utilizzare che intendiamo utilizzare all'interno del nostro progetto e in questo specifico caso voglio una funzione che prende in oggetto uno stato e nel nostro vulcani giapponesi gli status sono inactive oppure active e quindi gli dico if stato che è questa variabile qui uguale uguale perché la rappresentazione viene fatta col doppio uguale in python allora ritornami come colore il rosso altrimenti diciamo diciamo che se è inactive ritornami verde in questo caso qua quando andiamo a scegliere fill color andiamo a lanciare questa funzione ogni volta che ci ritorna questo colore a seconda dello stato dell'oggetto che stiamo appendendo alla nostra feature c'è un modo io adesso l'ho scritto in modo molto esplicito ma c'è un modo per fare questa cosa qui in un modo molto più sintetico che adesso vi mostro ed è così cioè ritornami red se lo stato è uguale ad active altrimenti ritornami green in tutti gli altri casi ritornami green ma a questo punto io ho scritto una funzione di una sola riga non ho più bisogno di definire una funzione qua posso andare a mettere siccome è solo una riga di codice posso andarla a mettere solamente qui diciamo che la cosa di definire una funzione mi servirebbe se la usassi in più punti del codice ma visto che so che la uso solamente qui non ho bisogno di definire una funzione che mi sporca solamente il codice posso automaticamente utilizzarla come parametro qua dentro poi naturalmente questa definizione di colorazione potrebbe avere anche diversi if al suo interno e creare colorazioni diverse a seconda dell'attributo che vogliamo rappresentare e quindi la cosa cambia questo progettino è molto semplice e fa comodo averla qui naturalmente mi immagino uno sviluppo di questo tool futuro la funzione colorazione sicuramente servirà e andrà messa fill uguale a true significa che il colore del puntino sarà pieno color uguale white è il colore del contorno e poi l'opacità sono tutte cose che ho settato una cosa che volevo fare che è la cosa che vi ho cancellato prima era aggiungere un pop up come quando aggiungiamo un pop up possiamo noi passargli una stringa e io gli volevo passare come stringa questa cosa qui uso una f string per non fare una cosa troppo complicata gli passiamo il nome del vulcano poi gli diamo una riga bianca gli diamo un comando di andare a capo l'altezza e sempre a capo e un cosa l'elevation ecco questi qua sono i tre attributi che abbiamo salvato di questa cosa tranne lo status che lo vediamo visivamente direi che è tutto a posto tranne che qua non ho il nome a questo punto per ognuna di queste righe nello zip ci andiamo a creare il nostro il nostro tino lo andiamo ad aggiungere al nostro layer e poi andiamo a visualizzare il layer con questo con questo comando qui lo andiamo a visualizzare è andiamo a aggiungere a questo a questo comando il al diamo il ma di ah perché l'ho chiamato qua l'ho chiamato names e non name status is not defined dov'è riga 20 ah perché l'ho chiamato status sì e poi qui l'ho chiamato st quindi è if st uguale uguale active else green ok questo qua insomma sono errori che non ho fatto apposta però per esperienza saltano fuori e anche per farvi vedere che insomma un minimo di debunking serve sempre e forse la cosa più importante di uno sviluppatore è saper fare debunking al proprio codice e anzi spesso capita quello di altri e lo possiamo andare a visualizzare con un qualunque browser e vedete questa è la nostra mappa è tutto renderizzato in automatico e c'è il comandino pop up ok adesso non è venuta la cosa più bella del mondo probabilmente c'è da lavorare un attimo anche a livello di html vedere vedere come si può fare per per sistemare bene questa cosa però il risultato vedete è una mappa di leaflet sotto c'è scritto leaflet centrata su Tokyo a un livello di zoom mi sembra interessante poi magari si può aggiustare anche su questa cosa qui e ci dà tutte le funzioni e ci dà questo layer che possiamo accendere o spegnere naturalmente i layer possono essere più di uno e niente adesso viene tutto bello tutto preconfezionato come vedete i bordi sono carini tutto quanto di solito le prime volte che si producono cose di questo tipo viene un mezzo schifo e lo si aggiusta in corso d'opera per trials and errors cioè io ad esempio all'inizio avevo dato come zoom start 10 perché mi sembrava una cifra così intelligente tonda non ricordo bene questa cosa che mi è venuto un colpo adesso qua posso aggiornare facendo F5 ecco ho visto ho visto Tocchio nella sua bellezza però non era il risultato che mi aspettavo ecco quindi io ritorno all'impostazione cos'era 5 6 non mi ricordo ed ecco vedete il risultato bene questo era quello che vi volevo mostrare un esercizio molto semplice quando lo feci vedere i ragazzi dei superiori scatenai un effetto wow pazzesco interrompo la condivisione e lascio spazio alle vostre domande se ce ne sono alzate la mano che vi attivo l'audio naturalmente non vi sento oppure scrivete in chat io ho addormentati tutti grazie a tutti purtroppo è il bello e il brutto dei geobreak Simona storditi dalla valanga di informazioni purtroppo per far vedere tutto in un'ora bisogna andare veloce sì quello che dici tu è vero c'è da lavorarsi su c'è da fare molto c'è da fra virgolette addestrarsi molto a imparare la sintassi e avere come dire ben chiaro la sintassi del codice python che cosa fa in questo modo come potete vedere io ho riprodotto questo esercizio praticamente andando a memoria perché avevo chiaro il concetto sono andato giusto a rivedere questi parametri perché naturalmente questi parametri sono stati dei trials però come funzionava tutta la sintassi del codice ce l'avevo ce l'avevo ben presente e quindi sono riuscito ad andare a memoria è questione di esperienza io non credo che sia una cosa complicata da fare però c'è una gran quantità di esercizio da metterci sopra questo sì è più è più la complessità dell'esercizio che non effettivamente capire la logica del codice io ti dico questa cosa perché quando ho iniziato a quando ho iniziato a programmare ho dovuto io sono un sociologo quindi cioè mai mi sarebbe venuto in mente di scrivere codici in Python nella mia vita e ho dovuto sfatare un come posso dire un pregiudizio abbastanza presente almeno nella mia testa perché io ero convinto ero convinto che per poter scrivere codici in Python bisognasse avere delle conoscenze pazzesche di matematica ecco non è così non è così assolutamente è tutta logica e e con dell'esercizio si 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 riesce a fare Antonio mi scuso sono appena entrato è possibile rivedere il video successivamente si credo che venga registrato e la registra si credo che venga registrato e verso i soliti canali di comunicazione canonici di GeoBreak se ci sono altre domande possiamo anche rimanere più tempo di quello che ci siamo prefissati ma magari vi attivo l'audio così insomma non parlo da solo che è un po' triste ok adesso dovreste essere tutti attivi a livello di microfono e vi voglio condividere vi voglio mostrare questa quest'altra schermata e poi dopo magari anche questo file ve lo ve lo diffonderemo attraverso i soliti canali perché penso che sia uno strumento molto utile per chi comincia a scrivere python nel geospaziale in campo geospaziale queste qui sono le librerie di python che hanno ricevuto il maggior numero di download nel 2022 come vedete c'è anche la nostra amica folium che abbiamo usato questa mattina con 10 milioni di download che non sono pochi e anzi direi che è una delle più scaricate c'è geopandas che sta andando fortissimo e che è veramente bella fiona che è una libreria che permette di fare manipolazioni di geometrie credo soprattutto vetoriali ma potrei anche sbagliarmi shimply che più o meno fa le stesse cose di fiona e geopandas fra l'altro importa le funzioni di fiona crea le stesse feature e poi dopo ci sono un po' di la libreria gidal probabilmente è rimasto un po' indietro come download perché è molto complessa da utilizzare la documentazione non è scritta benissimo però è la più performante di tutte e niente queste qua sono il pacchettino che se volete imparare a fare python for geospatial serve ora abbiamo visto una cosa molto semplice ci sono ci sono cose ben più complicate però credo che questo fosse un bel esercizio per per far vi vedere come si possono creare mappe attraverso codice python automatizzate in modo da magari inserirle in un servizio web senza doverle per forza fare a mano si trova il modo per fare le mappe a mano con QGIS è bellissimo però porta via del tempo se abbiamo bisogno di fare delle mappe semplici questo può essere un ottimo metodo si impacchettano i dati in un csv e si usa più o meno questo workaround a me piace tantissimo parlare ma mi piacerebbe di più rispondere alle vostre domande ve lo assicuro non abbiate paura di fare anche domande banali perché insomma lo scopo dei geobreak è poi quello di essere introdutivo il più possibile ok io comunque rimango a disposizione se avete qualsiasi tipo di dubbio la mia mail parmegiani.simone.gmail.com mi trovate su linkedin su linkedin in gestione mi sentite mi sentite mi sentite ok c'è stato un attimo di dicevo sul sul gruppo QGIS Italia naturalmente si dovrebbe parlare di QGIS ma credo che questa sia una cosa abbastanza collegata a quel mondo quindi qualsiasi domanda su quel gruppo è la benvenuta lo dico perché il gruppo è poco attivo e vorrei vorrei che lo fosse un pochino di più e poi naturalmente mi potete scrivere in privato non c'è nessun problema se se c'è qualche domanda assolutamente a disposizione io avrei finito qui se non ci sono altre domande che potete fare anche a voce ripeto interromperei qui il job break abbiamo ancora dieci minuti e niente se non c'è altro vi auguro una buona giornata ciao a tutti sì